Musica Ciao a tutti siamo Giorgio e Martina, sesto giorno in Corsica e se vi state chiedendo il perché di questo strano abbigliamento ci siamo svegliati presto questa mattina per andare a fare una camminata che ci porterà a fare canyoning Bingo! E adesso magari facciamo qualcosa di un pochino più rilassante tipo un giro per corte e cominciamo salendo sull'antica cittadella Oh senti che arietta Dalla quale si vede tutta la città dall'alto ma qui c'è anche il museo antropologico della Corsica dove attraverso oggetti di uso quotidiano viene raccontata la vita degli isolani intorno al 900 Ed è da qui che vi salutiamo ringraziandovi da aver guardato anche la nostra sesta giornata domani è l'ultimo giorno, iscrivetevi al canale di Corsica Vivirà adesso per non perderlo, per ricordarvi di guardarlo guardate anche tutti gli altri, fate un salto sul nostro canale per vedere altri viaggi trovate il link in descrizione e per l'ultima volta ci vediamo domani Ci vediamo domani Ciao 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 Ciao